Ciao ragazzi e benvenuti all'episodio dell'11 dicembre. Vogliamo vedere che cosa abbiamo oggi nel nostro calendario dell'avvento? Abbiamo una quesita di Gianni Rodari che si intitola Lo Zampognaro. Se comandasse Lo Zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro ed argento. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che i bambini trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati più uno per buon peso. Se comandasse il pastore del presepe di cartone, sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino che abbia nello stesso sorriso il bianco, il moro e il giallino. Sai che cosa vi dico io che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Bene ragazzi, ci vediamo domani alle 17. Ciao!